In questo caso no, nel senso che non è previsto un quorum, anche se andasse a votare meno del 50% degli elettori il referendum sarebbe valido e quindi se vince il sì la riforma viene approvata, se vince il no viene respinta. Faccio notare una cosa carina sempre nel disegno di legge di cui stiamo parlando, scusate nella legge costituzionale di cui stiamo parlando, tanto per far capire la filosofia, perché poi tu senti parlare Laboschi, senti parlare Renzi, pare che siamo avviati verso un futuro dove l'Italia metterà il turbo. Ecco, allora c'è questa cosa per cui era prevista dalla nostra Costituzione la possibilità di fare un disegno di legge di iniziativa popolare, questo disegno di legge richiedeva fino all'altro ieri un numero di firme pari a 50.000, ora fanno la riforma costituzionale, facciamo un quiz. Secondo voi questo numero di firme necessarie per una legge di iniziativa popolare, cioè fatta da me, da Vito, per ipotesi, è aumentato o diminuito? Voi direte, beh scusa ci parlano ogni giorno dagli scrani televisivi della democrazia, loro sono gli alfieri della nuova democrazia, sicuramente lo avranno dimezzato, lo hanno triplicato, lo hanno triplicato. Quindi questa è il simbolo e la cifra della riforma che hanno fatto, è una riforma che deve cercare certamente di snellire, non c'è alcun dubbio, il processo di produzione normativa deve diventare più snello, nel senso che deve diventare molto più rapido a recepire i diktat che arrivano da fuori. Perché questo avvenga è necessario che ci siano meno parlamentari, perché meno parlamentari vuol dire meno cervelli, meno cervelli vuol dire meno discussione, meno discussione vuol dire meno casino. Io non mi stupirei che un domani qualche cervellone ci proponesse di fare un Parlamento con dieci persone, perché alla fine riduciamo i costi dei parlamentari, riduciamo la litigiosità, tanto già di fatto oggi sostanzialmente le cose vengono decise da un manipolo di dieci persone che si contano, come diceva il generale, sulle dita di una mano. Ecco non mi stupirei che dopo un'attenta riflessione...